Si cambia registro se fino a ieri la raccolta differenziata poteva essere solo un'utopia in provincia di Isernia, da oggi i rifiuti cosiddetti umidi potranno essere realmente raccolti, separati e lavorati, trasformandoli in concime per l'agricoltura. Infatti inizia da oggi a funzionare l'impianto di compostaggio della Smaltimenti Sud a Tufo o Colonoco, un impianto realizzato secondo le caratteristiche tecnologiche più avanzate e destinato a lavorare la differenziata dei comuni dell'Isernino che conferiscono i loro rifiuti a Tufo o Colonoco. E ora toccherà proprio ai comuni diventare virtuosi e far partire realmente la raccolta differenziata, allineandosi alle realtà più civili e avanzate. L'investimento nell'impianto di compostaggio è stato fatto integralmente dalla Smaltimenti Sud, l'azienda della famiglia Valerio che raccoglie e lavora i rifiuti di quasi tutti i comuni della provincia. Oggi l'inaugurazione dell'impianto davanti a sindaci dell'Isernino, tutti invitati a darsi da fare per far partire la raccolta differenziata che da oggi può essere trasformata in concime. Praticamente è un impianto che andrà a trattare la frazione umida della raccolta differenziata e andrà a produrre il cosiddetto compost che sarà un compost di qualità quindi che sarà quel materiale che può essere utilizzato come fertilizzante quindi va a chiudere completamente il ciclo della raccolta differenziata. Ecco a questo punto per la provincia di Senna si può dire che questo ciclo è finito però poi bisogna farla la raccolta differenziata Valerio. A livello impiantistico il ciclo è completo, si affianca anche altri impianti che sono presenti nella regione Molise ma a livello impiantistico è completo e chiaramente è un invito appunto alla realizzazione della raccolta differenziata strutturale da parte dei comuni perché ci sono tutte le soluzioni impiantistiche per soddisfare la domanda che si verrà a creare. L'impianto realizzato a Tufo, Colonoco, dalla Smaltimenti Sud è stato progettato da un ingegnere molisano. Ingegnere Giovanni Santoro, lei è il progettista di questo impianto come funziona? Allora diciamo che con questo impianto andiamo a trattare una frazione dei rifiuti che è la frazione organica e il processo è un processo di compostaggio, un classico processo di compostaggio però con tecnologia evoluta dove la frazione organica viene prima stabilizzata in biocelle, in queste biocelle che stanno alle mie spalle, che è una fermentazione intensiva mediante un cumulareato, dopodiché subisce un'altra fase di lavorazione che è di maturazione e poi una fase finale di vagliatura e quindi nel ciclo produttivo della durata di circa 90 giorni noi abbiamo, tiriamo fuori un compost che poi può essere riutilizzato in agricoltura o nelle aziende vivaistiche.